Scritte inneggianti al nazismo nei manifesti elettorali del Partito Democratico, l'episodio è accaduto a Montevarchi a rispondere, è la segreteria provinciale del Partito. Sì, quello che è successo ieri a Montevarchi è un fatto molto grave, non tanto che ci preoccupi sul piano né personale né strettamente legato al Partito Democratico, perché non sono certo tre scritte inneggianti al nazismo che fanno preoccupare il Partito Democratico, che è, come noto, un partito notoriamente antifascista. Questo credo sia sintomo del clima di intolleranza che alcuni leader a livello nazionale quotidianamente vanno diffondendo, anche attraverso la promozione di cattili stili di vita. Siamo nel momento in cui dobbiamo rialzare la guardia, nel momento nei condaggi, dobbiamo tenere mascherine e fare tutto quello a cui siamo stati abituati a fare in questi mesi. Ma lo stesso anche per alcuni candidati alla presidenza della regione populisti e anche alcuni amministratori del territorio, perché non credo sia casuale il fatto che proprio a Montevarchi sia avvenuta questa cosa. Comunque, al di là della condanna ferma e della solidarietà a Elisa Bertini, a Vincenzo Ceccarelli e a Simone Tartaro, noi siamo impegnati per promuovere i valori della democrazia e della Costituzione antifascista a livello nazionale e sono convinto che anche a Montevarchi l'anno prossimo cambierà fortemente il clima dopo le elezioni amministrative. Però intanto pensiamo alle elezioni di settembre regionali e amministrative ad Arezzo.